La tradizione calcistica del Muraglia, il microcosmo del pattinaggio del Torolski Center, il ciclismo della neonata Pizarum Young Rivers. Tre sport differenti per tre società sportive che si uniscono creando il Consorzio Sportivo Pesarese. Lo fanno mantenendo le rispettive autonomie organizzative ma unendosi nel rivolgersi ai giovani in una trasversalità d'apprendimento delle discipline, nel valore educativo dello sport e rafforzandosi in un modello consortile più efficace nell'intercettare risorse e nel relazionarsi col tessuto sociale che li circonda. Sinergia e eterogeneità, queste sono un po' le chiavi di lettura di quello che abbiamo in mente di fare e abbiamo costituito, quindi insieme con una visione utilizzando quelle che sono le nostre emozioni, le nostre competenze e le nostre capacità di vedere lo sport all'interno della società. È il filo conduttore, è la visione, è la visione sui giovani, è la visione di sviluppo, la visione di sostegno di tutto questo percorso magico che è lo sport all'interno di tutto il percorso di crescita dei ragazzi. La somma di tre forze non è data dalla reale somma ma si ottiene sempre un risultato superiore. Si vorrebbe, direi per la prima volta forse, cercare di concepire lo sport come metodo educativo, come metodo che aiuti a una nuova socializzazione dei giovani e come metodo che permetta di vedere anche la vicinanza allo sport, all'esercizio fisico come non necessariamente rivolto a un agonismo e un agonismo esasperato ma come un modo per socializzare, per fare del bene al proprio fisico. Chiaramente questo è come partenza il discorso. Quello che peraltro si vorrebbe anche raggiungere e provare a vedere è anche quell'unione di altri stakeholder, quelle possono essere le strutture comunali o altre realtà sportive vicine, di provare a crescere anche con il loro aiuto. Il 23 aprile è il primo evento sportivo sul campo che battezzerà il consorzio seguito nel prossimo autunno dall'organizzazione di un convegno. Abbiamo organizzato questo evento il 23 di aprile che è una domenica dove tutti e tre gli sport avranno modo di mettersi in mostra perché comincieremo col patinaggio dalle 9 del mattino che farà un'esposizione, una gara ciclistica riservata ai giovanissimi, quindi ai giovani atleti e più delle dimostrazioni dei mini tornei di calcio per i piccoli amici, per i primi calci, insomma ragazzi, dei bambini delle prime facili età. Novolemmi dovremmo fare addirittura un convegno su tematiche legate allo sport, sia relativamente all'educazione, sia relativamente all'alimentazione, poi vedremo un po' come strutturarci. A sostenere il consorzio Confindustria Peso Rubino attraverso anche la sponsorizzazione di Bies per un'unione applaudita dallo stesso comune di Pesaro. Tre realtà che hanno voluto unirsi perché hanno tutti la stessa voglia e passione di tramandare quelli che sono i sani valori, quelli dello sport. Abbiamo già visto nel 2016 altre tre realtà sportive unirsi ed è un aspetto positivo perché mettere insieme diverse realtà sportive che credono nello sport danno la possibilità anche agli stessi genitori di poter provare diverse discipline sportive.